Oltre 4.000 persone tra bambine e bambini, adulti e genitori, 1.500 piccoli tra i 4 e gli 11 anni, si sono date appuntamento a Scarabocchi, immaginando e riflettendo sul gesto e l'atto del disegnare facce visi volti, le tre parole, tema della settima edizione del festival, che indicano la nostra visione dell'altro e il senso di incontrarsi intorno alla creatività e all'immaginazione. L'appuntamento di Novara L'appuntamento di Novara